Ciao! Le persone miti sono coloro che rispondono al male non con altrettanto male, quindi come si dice nell'Antico Testamento, occhio per occhio e dente per dente, ma sono coloro che rispondono con amore anche a chi gli fa del male. A questo proposito vedi Gesù quando viene picchiato, quando viene sputato, quando viene oltraggiato, incoronato di spine, poi tutte le percosse che ha ricevuto, gli insulti che ha ricevuto, anche le cadute lungo la Via Crucis, poi la crocifissione. Quindi lui utilizzava parole d'amore anche verso coloro che gli facevano del male. Quindi praticamente il mite è colui che sa mantenere dentro di sé la pace e l'amore anche nei momenti di difficoltà, anche nei momenti difficili. Quindi per essere miti bisogna essere anche forti. Il mite è una persona forte, non è una persona passiva che subisce, ma è una persona che ama, che ama anche nella difficoltà. E Gesù è il mite per eccellenza, ce lo dimostra ecco la passione di Gesù. Leggetevi i Vangeli della Passione. Ora, colui che sa mantenere dentro di sé la serenità, l'amore verso l'altro, la fede, anche nei momenti difficili, che possono avvenire anche dal punto di vista relazionale con gli altri. Cioè se uno mi odia, io continuo a volergli bene. Questo è il mite praticamente. Se uno riesce a mantenere questo stato dentro di sé, possiederà la terra. La terra non è qualcosa di materiale, non è una terra che uno possiede, ma in questo caso si riferisce al paradiso, alla vita eterna, che è innanzitutto uno stato spirituale dell'anima, meraviglioso. Cioè chi rimane mite abiterà la stessa terra di Dio, ed è una dimensione innanzitutto spirituale. Quindi, riterrano la terra, vuol dire che avranno un posto in paradiso per l'eternità. E noi dobbiamo imparare a essere mite. Esempio anche in questa settimana santa, che è appena iniziata, diventa per noi una scuola di mitezza, una scuola di amore. Amate tutti sempre, come Gesù. Il Signore vi benedica.